Basta giocare! Guida mi. La scia di distruzione conduce a quell'enorme radice. Il guanto del grande Yotun ha scrimi, forse il bottino è nascosto al suo interno. Muschio dappertutto. È difficile immaginare che una mano abitasse questo luogo. Le guardie qui sono vigili. Il calderone è scomparso. Ma come lo hanno portato qui dentro? No. 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 Grazie.